Musica Ciao Giantaglia, sono Shota Hatesu, questo è Breaking Italy e yeeey La Costa Concordia è finalmente in piedi, visto che tutti ne stanno parlando E molti di voi mi hanno scritto, ma perché ieri non hai parlato del fatto che la Costa Concordia è stata finalmente messa in piedi Ecco qui, ora ne sto parlando, guardate quanto veloce sarò a dare questa notizia Prima la Costa Concordia era così, dopo quasi 20 ore di lavoro alle 4 del mattino invece era così E queste 20 ore per chi sta molto su internet per varie ragioni come me sono state le più lunghe della propria vita Visto che non si è parlato d'altro Ora non vorrei che mi fraintendeste, mi rendo conto di quanto epico sia prendere una nave lunga quanto il Titanic Rimetterla in piedi poggiandola su un fondale finto, perché è quello che è stato fatto Per poi brindare al capolavoro di ingegneria che è stata tutta questa operazione E va bene, sin qua ci sta, e ci sta anche la telefonata del Premier Letta che si dice entusiasta di quello che è accaduto Benissimo, quello che personalmente però non riesco a capire sia questa ossessione in merito a tutta la vicenda Già ieri mattina, quando i lavori non erano ancora praticamente iniziati Tutti i media italiani stavano già parlando di questa cosa e si diceva Durerà 12 ore, quindi perché non fare una telecronaca minuto per minuto, grado per grado Di questo epico salvataggio di questa gigantesca nave vergognosamente arenata vicino all'isola del Giglio E quello che è successo, milioni di foto, a mezzogiorno si è spostata di 5 gradi Alle 2 si è spostata di 9 gradi, poi di 10 gradi, poi wow c'è un buco Guardiamo milioni di foto in merito a questo buco E poi wow c'è un graffito misterioso, guardiamo questo graffito misterioso È stata la cosa più coperta in assoluto ieri e probabilmente lo sarà anche oggi assieme all'uscita di GTA V E personalmente questa storia, non quella del Giglio che ormai finalmente si è chiusa Ma quella dei media che coprono ossessivamente questa cosa E di tutti quanti che se la cantano e se la suonano e dicono Orgoglio italiano, facciamo vedere alla nazione, al mondo quanto siamo bravi nel fare le cose Mi sembra il classico cantarsela e suonarsela da soli Perché io poi stamattina, come ho fatto sempre, avrei fatto un giretto sui vari siti dei giornali internazionali E su Reddit per vedere quante persone fossero interessate a questa cosa C'era il wow, tecnicamente interessante come hanno fatto questa roba Ma basta, nessuno sventolava bandiere italiane, nessuno aveva le lacrime agli occhi Nonostante ciò, Twitter è invasa di gente che è esaltatissima per questa cosa E ci sono i parallelismi della nave che ricomincia a galleggiare E quindi è come l'Italia che ricomincia a galleggiare E poi il fatto che abbiamo rimesso in piedi questa nave Significa che questo paese può farcela e si può riprendere Magari sono io, fatemi sapere nei commenti se sono io Perché io davvero non riesco a capire questa cosa, Giontaglia, non la capisco Perché dovrebbe essere così interessante sapere a che ora la nave è piegata in un certo modo Eccetera eccetera Spiegatemelo, schiacciate su questa notazione se volete vedere altri video che ho fatto oggi Io sono ShooterHateYou e questo è Breaking Italy